La mezza deve rinascere, sì è arrivato il momento di dare il mio contributo, personale e professionale. È il momento di scegliere un sindaco responsabile per governare bene la nostra città. È tempo di fare spazio ad una nuova generazione. Il 31 maggio facciamo la scelta giusta, scegliamo il rinnovamento, pronti non a voltare pagina ma a cambiare libro. Il 31 maggio per cambiare la città dobbiamo essere affamati, dobbiamo essere fuori. Votiamo Pasqualino Ruberto. Anch'io ho scelto di offrirvi la mia esperienza e le mie capacità per costruire insieme a Pasqualino Ruberto il nostro futuro. Un impegno in comune. Ecco le chiave della nostra città. Pensiamo al futuro dei nostri figli. Ti consegno la chiave della città perché siamo sicuri che solo tu ci potrai garantire un futuro migliore. Una persona con la gente e per la gente. È in gamba, è in gamba, è il meglio di tutti quanti. Alle capacità, alle conoscenze che non hanno i raggi. Può sicuramente risanare questa città. Se non dovesse essere io all'altezza delle due situazioni ve la restituisco in poco tempo perché la città è giusto che la guidi qualcuno che ne ha le capacità. Grazie. 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 Grazie.